Si è alzato ufficialmente il lesipario sulla stagione della nazionale maschile che ha concluso a Cavalesi il primo collegiale del 2016. Gli azzurri di Blengini, privi dei giocatori impegnati nella finale scudetto Modena-Perugia, hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla World League, primo appuntamento dell'anno e preludio dell'evento più atteso, i giochi olimpici in programma ad agosto a Rio de Janeiro. L'Italia esordirà il 17 giugno a Sydney contro i campioni in carica della Francia nel primo di tre weekend di diare. Il secondo, dal 24 al 26 giugno, è in programma a Roma, l'ultimo la settimana successiva a Teheran. Il CT azzurro ha diramato la lista dei 21 convocati per la World League. Gli alzatori sono Simone Giannelli, Daniele Sottile e Riccardo Sbertoli. Centrali Enrico Cester, Davide Candellaro, Emanuele Birarelli, Simone Buti, Matteo Piano e Simone Anzani. Schiacciatori, Osmani Guantorena, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Michele Fedrizzi, Jacopo Botto e Gabriele Maruotti. Gli opposti sono quattro, Ivan Zaitsev, Luca Vettori, Gabriele Nelli e Giulio Sappi. Infine i due liberi, Massimo Colaci e Salvatore Rossini.